La Mercatorum Alzano nasce da un'esigenza del territorio di riavere una non competitiva del CSI. Da troppi anni ad Alzano mancava ancora dei tempi degli amici di Alfredo. Quindi da questa necessità la voglio appunto di riportare sul territorio uno di questi eventi che sono veramente importanti e che attirano tantissime persone. Quando ci ha contattato l'assessore Bonomi siamo stati felici di partecipare a questa iniziativa. Comunque i percorsi sono tre, uno facile di 6 chilometri, uno medio di 15 chilometri e uno un pochino più difficile di 19 chilometri. Si svolgono prevalentemente su sentieri, strade sterrate e è comunque la portata di tutti come tutte le non competitive. Poi uno può decidere se correre, allenarsi oppure fare semplicemente la passeggiata. E niente, vi aspettiamo perché pensiamo che come prima edizione abbiamo messo il massimo dell'impegno per poter poi portare avanti questa cosa. Ecco perché Mercatorum, antica via dei mercanti che metteva in collegamento partendo da Bergamo la Val Seriana con la Val Brembana. Si arrivava fino a Cornelo dei Tassi dove c'era il mercato e da lì verso la Svizzera nel canton Grigioni. E per questo noi l'abbiamo intitolata la Mercatorum perché viene a toccare questi sentieri collinarie di montagna molto importanti per tutta la comunità dei paesi nelle valli. Grazie.